Vediamo come aggiungere un punto al nostro libretto. Apro il libretto che ho creato prima, eccomi qua. Primo step, ricordo, GNSS, ci stiamo collegando all'antenna. Collegamento avvenuto, ci dà il fix, ci dà il tempo che intercorre nel ricevere le informazioni direttamente dal sistema al quale siamo collegati, ci dice che abbiamo 22 satelliti a disposizione. Questo righello ci permette di impostare quella che è l'altezza dell'antenna. Io adesso ho l'antenna a 2 metri. In automatico, siccome il centro di fase dell'EMLID RS2 prende 0.134, quindi sono 13,4 cm, in automatico, una volta che io inserisco l'altezza della palina, in automatico mi dice che non è 2, che è l'altezza della palina, ma esattamente 234. Confermo, l'altezza dell'antenna è impostata correttamente, sono pronto per misurare il primo punto, quindi diciamo che già sono sul punto che voglio misurare, semplicemente porto la mia antenna in bolla, ecco adesso la sto portando in bolla, e gli dico misura punto, ecco mi dice che lo stato è fix, mi dà la precisione, mi dà il DOP, e ho misurato il mio punto, punto in automatico viene dato 100, in automatico prende il primo codice, è la prima descrizione disponibile, se vado qui e dico che per esempio non è un picchetto ma un chiodo, in automatico cambia la descrizione e cambia anche il codice, lo fa anche se scelgo direttamente il codice, in automatico cambia la descrizione, sono collegati. Ok, fatto questo potrei anche andare a scattare una fotografia al punto che mi interessa, per esempio clicco su foto, gli dico di consenti, pesisci immagine con camera, ecco sono sul punto che mi interessa, ovviamente posso scattare la fotografia eccetera eccetera, scatto questa, ok, e la foto viene inserita, posso averne più di una, vedrò le antiaprime o addirittura fare un video, confermo il punto 100 inserito, ovviamente se adesso io mi spostassi con l'antenna, ecco che mi sposto, mi fermo in questa posizione, anche qui adesso vado in bolla, perfetto, interessante, se tutti quelli che sto battendo sono per esempio chiodi come abbiamo impostato prima la descrizione, io posso evitare di fare misura punto e poi trovarmi di nuovo di fronte alle descrizioni da scegliere, posso fare direttamente misura e salva, misura e salva verifica sempre che i parametri siano impostati, dopodiché batte il punto 101 e in automatico lo chiama come descrizione e codice chiodo, cliccando su questo bottoncino qui in alto, questi due accanto all'altezza antenna, posso vedere la lista dei punti che ho battuto e andare ovviamente all'interno delle proprietà, quindi andare a vedere quello che ho battuto, le precisioni, le coordinate cartesiane, geocentriche e geografiche, il tempo di osservazione, quando l'ho battuto eccetera, visualizza su CAD, mi fa uno zoom sul punto che ho battuto che lampeggia per farmi vedere esattamente qual è, molto utile per esempio quando ho una serie di punti e voglio andare a vedere, voglio andare a recuperare quello che più mi interessa.